Ciao Bibiofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale, oggi parliamo dei libri migliori del 2020 anno da poco finito, finalmente, che mi ha portato però tantissime stupembe letture anche qualche delusione, ma soprattutto delle bellissime letture allora, è una classifica un po' diversa dal solito, quest'anno ho deciso di farla appunto in maniera diversa rispetto agli scorsi anni come sapete, inizio gennaio di ogni nuovo anno, vi faccio una classifica dei libri migliori questa volta la classifica appunto sarà leggermente diversa ho voluto fare una classifica dei 10 migliori libri del 2020 cercando appunto di fare una classifica per questi 10 libri in base a quello che mi è piaciuto di meno e poi verso quello che mi è piaciuto di più, che sarà la prima posizione però capite bene che sono già 10 libri spettacolari che ho amato tantissimo io leggo tantissimo, circa 80-100 libri all'anno quindi capite bene che sceglierne 10 è stato difficilissimo motivo per cui, oltre a questi 10 libri vi dirò 5 seguiti, quindi una classifica fra virgolette a parte che sono i 5 seguiti che ho amato di più in questo appunto anno appena finito da poco finito, ripeto finalmente e adesso invece senza mostrarveli così in maniera molto veloce vi dico quali libri mi è dispiaciuto lasciar fuori da queste due classifiche quindi ho fatto appunto una classifica di 5 seguiti fra tutti i seguiti che ho letto che sono quelli che più mi hanno dato soddisfazione più mi sono piaciuti e comunque rientrano nei libri migliori dell'anno e poi 10 libri fra i più belli che ho letto appunto nell'anno e adesso appunto vi voglio citare questi libri così in maniera molto veloce senza farveli vedere, senza soffermarmi in maniera specifica perché mi piange davvero il cuore non citarli però fare classifiche più lunghe sarebbe stato forse esagerato fra tutti i libri che non compariranno in queste due classifiche voglio appunto citarvi velocemente per quanto riguarda i seguiti sia il portale degli obelischi quindi il secondo libro della Terra Spezzata di N.K. Jameson dopo la quinta stagione c'è stato il portale degli obelischi nel 2020 bellissimo seguito e il seguito della trilogia dedicata ai Malek di Cassandra Clare e Wesley Chu quindi The Red Scrolls of Magic il secondo libro The Lost Book of the White il libro bianco perduto in italiano che mi è piaciuto ancora di più che il primo libro veramente spettacolare altri seguiti che mi sono piaciuti un sacco sono stati Venom di Bexogan quindi il seguito di Viper una trilogia che mi sta piacendo un sacco attendo il terzo libro che uscirà in primavera Bookish and the Beast questo terzo libro di una trilogia iniziata con Ghiccarella è continuata con The Princess and the Fangirl di Ashley Poston una trilogia contemporanea di retelling Bookish and the Beast è un retelling della bella e la bestia dolcissimo, bellissimo mi ha dato le farfalle nello stomaco e mi è piaciuto molto anche Midnight Sun non posso non citarlo di Stephanie Meyer non è rientrato nella classifica mi piange un po' il cuore l'ho aspettato per 14 anni ma nel frattempo sono cresciuta però volevo citarvelo e fra gli altri libri che ho letto nel 2020 e che non ce l'hanno fatta entrare in queste classifiche che inizieranno a breve ci sono anche Loki di Mackenzie Lee un libro dedicato al mio personaggio preferito della Marvel in particolar modo del Marvel Cinematic Universe Anna di Tetti Verdi che ho finalmente recuperato e mi è piaciuto un sacco non vedo l'ora di andare avanti Il Viaggio di Alla di Naomi Micin sono una nuova scoperta uno degli ultimi libri comunque letti nel 2020 che mi è piaciuto un sacco anche per quanto riguarda il suo significato profondo Wolverine Moonlight un libro young adult fantasy molto bello ispirato alla storia boliviana e last but not least Beren e Luthien di Tolkien questi sono tutti libri seguiti e non che non ce l'hanno fatta rientrare appunto nelle classifiche però volevo citarli perché comunque mi sono piaciuti veramente veramente un sacco ma cominciamo e cominciamo con la classifica dei 5 seguiti che più mi sono piaciuti in questo 2020 al quinto posto anche qui sappiate che comunque sono 5 libri che ho amato tantissimo sapete quanti libri leggo ho letto tantissimi seguiti alcuni ve li ho appena citati che comunque mi sono piaciuti un sacco altri non mi hanno entusiasmato alcuni non mi sono piaciuti per niente mentre questi 5 sono quelli che proprio più mi sono piaciuti quindi li metto in questa classifica ma più a livello di amore per questi libri siamo sullo stesso livello comunque facendo una classifica un po' così al quinto posto c'è lui A Hearts of Fierce and Broken di Brigitte Kammerer secondo libro della trilogia iniziata con A Corso Dark and Lonely anche qui un retelling della Bella e la Bestia che mi è piaciuto perché non me l'aspettavo che un secondo libro di una trilogia potesse piacermi così tanto mi sono emozionato un sacco qui si fa molto riferimento a un personaggio che è diciamo secondario nel primo libro e si va a introdurre un nuovo personaggio e diventano i principali in questa parte di storia il tutto andrà a confluire nell'ultimo libro che esce a giorni e non vedo l'ora di leggerlo nella mia TBR di gennaio comunque non mi aspettavo che il secondo libro di una trilogia Young Adult Fantasy sia alla fine molto easy peasy mi potesse piacere così tanto quindi dovevo inserire A Heart of Fierce and Broken in questa classifica subito dopo abbiamo un libro che è un seguito è un ultimo libro di una saga mi è piaciuto un sacco sebbene non sia il mio libro preferito della serie e sto parlando della saga dell'attraversa specchi quest'anno è arrivato il momento di leggere Ekin Tempesta e lo metto fra i miei seguiti preferiti perché comunque è stato molto emozionante il finale non mi ha deluso mi rendo conto che invece molti sono rimasti delusi da questo finale e comprendo però io ho amato un sacco leggere l'ultimo capitolo dell'attraversa specchi avrei preferito come vi dico nel video dedicato che alcune cose fossero state fatte in maniera diversa però non potevo non inserire Ekin Tempesta perché questa saga mi è entrata nel cuore così come il suo ultimo libro l'ho amato anche un po' di più terzo posto in questa mini classifica dei seguiti più belli del 2020 è per lui Aria di novità di Carmen Korn terzo e ultimo libro della trilogia della saga familiare iniziata con Figlia di una nuova era io come sapete non leggo tantissime saghe familiari non fanno per me però questa mi è piaciuta un sacco e il terzo libro che arriva praticamente agli anni 90 non mi ha deluso per niente ci sono dei video dedicati a questa saga familiare portata in Italia dalla Fazzi Editore e mi è piaciuta immensamente per i suoi personaggi ma anche per l'ambientazione appunto storica calcolate che il primo libro comincia post prima guerra mondiale e si arriva fino agli anni 90 con il terzo libro quindi è veramente un contesto storico molto particolare ci sono come retroscena tantissimi avvenimenti storici importantissimi siamo in Germania quindi potete immaginare e questo terzo libro non mi ha deluso per niente si dà l'addio a tantissimi personaggi e mi è piaciuto un sacco non me l'aspettavo che una saga familiare potesse piacermi così tanto credo che figlio di nuova era resti il mio libro preferito della trilogia ma subito dopo c'è area di novità e comunque è stato uno dei seguiti più belli di quest'anno ultimi due seguiti i più belli che ho letto nel 2020 perché sono quelli che più mi hanno emozionato ed entrambi concludono due delle mie saghe preferite il secondo posto va a un libro che al momento non ho ancora qui con me in cartaccio ed è Sky Beyond the Storm che è un libro letto a dicembre quindi ne parleremo nel wrap up di dicembre l'ultimo libro della saga An Amber in the Ashes di Sarah Tair Il Domino del Fuoco io attendevo questo libro da tanti tanti mesi perché è stato rinviato quindi ho aspettato veramente tanto per leggerlo però ne è valsa la pena per me è un finale perfetto non cambierei nulla nonostante ci sia tanta tanta sofferenza e nonostante una cosa che riguarda un personaggio possa essere vista come ingiusta io credo che nonostante tutto sia un finale veramente perfetto per la storia che abbiamo letto fino a questo momento Il Domino del Fuoco è una delle mie saghe preferite super sottovalutata e non capisco perché in realtà ci sono tantissimi colpi di scena non si capisce mai dove si va a parare Sabataire è stata bravissima davvero nell'andare a intrecciare le storie di tre personaggi in tantissimi modi diversi ho amato tutto di questo libro ho sofferto un sacco la Taira è bravissima a scrivere io sentivo sulla mia pelle ciò che andavo a leggere è stato un finale perfetto e appunto è al secondo posto ma Sky Beyond the Storm è il libro di cui parlo a breve come se fossero in realtà davvero i seguiti più belli quindi sullo stesso piano seguiti più belli del 2020 quindi sia Sky Beyond the Storm sia lui The Empire of Gold di S.H.A. Kraborty ovvero terzo e ultimo libro della trilogia iniziata con City Obrass quindi La Città di Ottone è uscito in italiano La Città di Ottone ve ne ho parlato e straparlato è rimasta una delle mie trilogie preferite è confermata come una delle mie saghe e trilogie preferite perché Empire of Gold è il libro ed è il seguito insieme a Sky Beyond the Storm più bello del 2020 ed è il libro che quest'anno insieme veramente a pochi altri mi ha fatto singhiozzare mi ha emozionato in una maniera indescrivibile ed è stato anche in questo caso un finale perfetto per la storia che abbiamo letto fino a questo momento The Empire of Gold e Sky Beyond the Storm sono davvero i seguiti perfetti per quel che mi riguarda per due saghe che non mi hanno deluso dall'inizio alla fine per me due saghe validissime quindi vi straconsiglio di recuperare sia Il Dominio del Fuoco sia La Città di Ottone credetemi non ve ne pentirete se avete più o meno i miei stessi gusti non ve ne pentirete ma anche perché vanno davvero a differenziarsi nel panorama fantasy young adult credetemi dopo aver parlato di questi cinque meravigliosi seguiti che rientrano comunque nei libri migliori letti nel 2020 passiamo alla classifica dei dieci libri migliori del 2020 vi ripeto è stato difficile scegliere solo questi dieci la classifica sì l'ho fatta in base magari all'emozione o all'affetto che ho nei confronti di questi libri ma più o meno mi sono piaciuti tutti e dieci allo stesso modo la classifica comunque ve la dico ma sappiate che sono tutti questi dieci libri più i seguiti più quegli altri che vi ho citato prima in maniera molto veloce i libri più belli letti nel 2020 quindi comunque di base sono tutti straconsigliati anyway classifica dei dieci libri migliori del 2020 decima posizione per un libro che purtroppo non ho in cartaceo ed è Ketura and Lord Death un libro che mi è stato consigliato da una mia amica un piccolo piccolo romanzo perché è veramente molto corto e la storia non pensavo mi sarebbe piaciuta così tanto perché ha tutti connotati per essere una favola oscura in quanto si parla della morte ovviamente ora io non sarò qui a dirvi ogni volta le trame anche perché sono libri di cui abbiamo già parlato e straparlato semplicemente questi libri mi hanno emozionato e mi sono affezionata ai personaggi o ai libri stessi in quanto sono per me perfetti per una lettrice come me appunto quindi a livello di trama di world building di setting di stile di scrittura e chi più ne ha più ne metta per me come lettrice sono state ottime sono state ottime letture e davvero perfetti poi ovvio che la perfezione non esiste però parlo ovviamente di Gabriella come lettrice e nient'altro quindi Cature and Lord Death è stata una vera e propria scoperta una favola oscura meravigliosa che nonostante sia molto corta presenta tutti gli elementi necessari per essere un libro meraviglioso e lo è stato quindi dovevo assolutamente inserirlo in questa classifica nona posizione la nona posizione è una scoperta ve ne ho già parlato in primavera se non ricordo male dello scorso anno perché in primavera dello scorso anno ho letto Missborn leggendo finalmente questa trilogia di Brandon Sanderson io di Sanderson avevo già letto Irritmatista non mi aveva fatto impazzire con Missborn ovviamente mi sono ricreduta sapete se mi seguite che in realtà questa trilogia non mi ha fatto impazzire come per tanti altri nel senso che ho trovato alcuni difetti ho trovato alcune cose che non mi hanno entusiasmato però devo dire che il primo libro di questa trilogia quindi The Final Empire l'ultimo impero mi è piaciuto un sacco perché c'è la novità perché il sistema magico è assolutamente originale perché Sanderson scrive meravigliosamente e perché c'è un personaggio che io amo un sacco che è il mio preferito Kelsier e come primo libro mi ha entusiasmato un sacco Missborn il problema per me è stato il calare per quel che mi riguarda ovviamente della trilogia è stato un scendere sempre di più The Final Empire però è stato veramente un libro bellissimo che mi è piaciuto dall'inizio alla fine e quindi lo voglio inserire in questa classifica perché obiettivamente se si è letto Missborn non si può non inserire una classifica dei libri migliori e mi è piaciuto un sacco la trilogia con il secondo e il terzo libro mi ha un po' deluso però sicuramente andrò avanti leggendo altro di Sanderson probabilmente Missborn però non resterà il mio libro preferito lo spero quantomeno spero che l'antris o magari le cronache della folgoluce quando le leggerò saranno per me migliori la ottava posizione occupata da un libro che mi è stato di grande aiuto l'ho letto in uno dei periodi più brutti del 2020 per me il 2020 è stato in generale un brutto anno con una pausa positiva e bella dell'estate ma soprattutto gli ultimi mesi del 2020 sono stati terribili terribili davvero e questo libro mi ha aiutato un sacco durante proprio un periodo davvero buio e mi è piaciuto un sacco ma soprattutto appunto lo inserisco in questa classifica oltre perché è bello a livello di trama stile di scrittura ma l'autore già mi piaceva proprio perché mi ha aiutato e quindi a livello emotivo è importante sto parlando della biblioteca di Mezzanotte di Matt Hague di cui abbiamo già parlato vi ho fatto verso novembre dicembre un video con le nuove uscite di edizioni e off a cui c'era anche questa vi ho parlato sia appunto della biblioteca di Mezzanotte sia di un altro libro molto bello La Cauda del Sole di Ferro e altri due però questo è proprio quello che mi è piaciuto di più che mi ha aiutato un sacco e doveva essere presente in questa classifica ve lo straconsiglio è davvero un libro adatto al periodo che stiamo vivendo per quel che mi riguarda Matt Hague in generale è uno scrittore che mi piace veramente un sacco e tratta tematiche non leggere in maniera giusta per una lettrice come me settima posizione per un nuovo fantasy un debutto per la autrice che mi è piaciuto per la sua trama per i vari intrecci e per l'originalità per quanto riguarda il sistema magico e per il fatto che comunque si faccia riferimento veramente a tantissime cose c'è molta attenzione nei dettagli di questo fantasy nel costruire il mondo e nel costruire non solo a livello geografico il mondo o architettonico ma anche a livello della cultura della religione del sistema magico appunto che resta davvero molto originale e anche delle leggende della storia di questo mondo e sto parlando di lui The Bone Shard Dauter e io davvero non mi aspettavo che questo libro mi piacesse così tanto riguardando tutti i libri che ho letto nell'anno ho dovuto inserirlo perché mentre lo leggevo dopo una prima confusione nelle prime 50 pagine andando avanti questo libro mi ha sempre più entusiasmato e mi è piaciuto infinitamente e quindi non potevo non inserirlo perché davvero a livello di personaggi di trama di intrecci di trama anche a livello di relazione uomo-creatura quindi uomo-animale mi ha entusiasmato un sacco e non vedo l'ora di andare avanti io spero che l'autrice Andrea Stewart mantenga questo suo stile questa sua grande fantasia e questa sua grande bravura perché non non è facile ormai scrivere un fantasy originale un epic fantasy io credo che sia il buon presupposto The Bone Shard Dauter per una buonissima trilogia epic fantasy speriamo bene purtroppo ci sono in inglese speriamo venga tradotto in italiano sesta posizione la sesta posizione è occupata da un libro che mi è piaciuto un sacco che attendevo di leggere da due anni finalmente l'ho comprato nel 2020 e l'ho letto ho letto anche il suo seguito e in realtà inserisco un po' anche il suo seguito vi parlo di The Lost Queen e poi c'è anche il seguito The Forgotten Kingdom di Singer Pike questa trilogia meravigliosa fantasy storica perché è ispirata al ciclo arturiano e ci parla di questa regina della Scozia Languaret di suo fratello Lailoken che è colui che ha ispirato la figura di Mago Merlino quindi il tutto si svolge nel periodo in cui si è svolta la leggenda di Re Artù e il romanzo storico va ad unirsi al fantasy perché si parla ovviamente anche un po' sia di magia sia di leggende che riguardano anche la magia con Re Artù e Merlino nel primo libro noi conosciamo Languaret e Lailoken quando sono davvero molto piccoli e seguiamo la loro crescita in The Forgotten Kingdom sono ancora più grandi e continuiamo a seguire la loro vita e siamo davvero arrivati al punto in cui si parla di Merlino e Artù e io non vedo l'ora di leggere il terzo e ultimo libro di questa trilogia che secondo me rimarrà una delle mie preferite vi straconsiglio di Lost Queen se amate il ciclo arturiano purtroppo anche in questo caso c'è solo in inglese entriamo finalmente nella top 5 quindi quinto libro più bello del 2020 un libro che non mi aspettavo che mi piacesse così tanto devo essere sincera un libro che infatti non avevo letto in inglese perché non mi ispirava non mi entusiasmava voi sapete che io amo il Grishaverse di Leigh Bardugo amo la trilogia Grisha amo Sei di Corvi è il regno corrotto e prendo praticamente tutti i libri extra di questo mondo perché il Grishaverse è veramente speciale quando si vociferò e quando poi è uscito effettivamente in inglese The Ninth House io non la volevo leggere non la volevo come lettura perché non mi entusiasmava poi è stato annunciato in italiano e la Mondadori mi ha effettivamente inviato la nuova casa in questa edizione spettacolare io l'ho letto con aspettative normali e sono state stra mega superate perché perché Leigh Bardugo è bravissima a scrivere io amo il suo modo di scrivere ma perché qui discostandosi completamente dal Grishaverse crea una storia molto bella molto importante a livello di tematiche non è un libro per tutti ve ne ho parlato molto bene nel video dedicato erano una casa lo trovate sul canale e mi ha trasmesso tante emozioni sia negative soprattutto negative ma in un senso negativo buono sia positive perché non mi aspettavo una trama così bella non mi aspettavo dei personaggi così belli e perché comunque è un libro ambientato nei giorni nostri nel nostro mondo quindi non mi aspettavo che Leigh Bardugo fosse così brava anche a scrivere altro del Grishaverse e quindi la nona casa deve essere inserito in questa classifica molto in alto perché è stata una grandissima meravigliosa bella scoperta che mi ha donato una storia molto bella che mi ha fatto riflettere che mi ha donato tante emozioni diverse non vedo l'ora di andare avanti però passerà un sacco di tempo non ce la faccio comunque quinto posto la nona casa il quarto posto di questa classifica va a un libro che anche in questo caso purtroppo esiste solo in inglese che spero venga portato anche in Italia che è un libro ispirato alla Persia e mi è piaciuto perché non me l'aspettavo anche in questo caso che un libro del genere potesse piacermi così tanto nel senso che io lo iniziai con aspettative normali anche in questo caso eppure sono state superate da un libro fantasy young adult bellissimo dove la principessa si salva da sola e dove ci sono veramente tantissimi colpi di scena un cattivo con la c maiuscola che mi ha ricordato un po' il Darkling che sapete che per me è il cattivo per eccellenza e con una relazione LGBT molto dolce ma con soprattutto una trama fantasy che mi è piaciuta un sacco nonostante sia un libro anche relativamente corto perché si parla di circa 300 pagine eppure c'è veramente tutto Girl Serpentorn mi è piaciuto dall'inizio alla fine non cambierei una virgola ripeto per me come lettrice questo libro è perfetto nel senso che mi piace lo stile dell'autrice mi sono piaciuti un sacco i personaggi mi è piaciuto un sacco la trama i colpi di scena il setting ispirato alla Persia e non cambierei nulla perché io mi sono innamorata dalla prima all'ultima pagina e quindi Girl Serpentorn è in questa classifica ed è così in alto perché per me è bellissimo ebbene siamo arrivati alla top 3 i tre libri più belli del 2020 so che questa classifica farà storcere il naso a tantissime persone ma non me ne vogliate io amo un sacco questi libri tutti quelli citati fino a questo momento e per me i tre libri più belli stanno per essere annunciati spero possiate capirmi se non vi sono piaciuti lo capisco ma rispettate anche i miei gusti è la Gabriella lettrice che ha appunto i suoi gusti personalissimi che non vuole imporre a nessuno terzo posto il terzo posto va ad un libro che mi ha sorpreso e che mi ha fatto tornare l'amore per una saga che fa parte di me voi sapete che io amo Shadowhunters però sapete anche che Queen of Air and Darkness l'ultimo libro di The Dark Artifices non mi era piaciuto per niente c'è un video sul canale in cui praticamente lo demolisco perché è l'unico libro di Cassandra Clare che davvero non mi è piaciuto e comunque la trilogia di The Dark Artifices mi ha deluso parecchio era iniziata molto bene con Lady Midnight ma già con Lord of Shadows le cose stavano andando malino per me e Queen of Air and Darkness per me non è un bel libro quindi io ho iniziato e letto Chain of Gold la mia terza posizione con aspettative basse perché ho pensato che la Clare avesse perso quel qualcosa che le faceva scrivere i libri che avevo amato fino a quel momento eppure Chain of Gold mi è piaciuto tantissimo perché mi ha riportato indietro l'amore che ho per Shadowhunters mi ha riportato ciò che ho amato tantissimo delle origini perché Chain of Gold è il primo libro della Star Wars quindi la trilogia ambientata qualche anno dopo quella delle origini che rimane la mia trilogia preferita ha un cast di personaggi spettacolare ottima rappresentazione a livello di etnie a livello di comunità LGBTQ plus è una trama meravigliosa che mi è piaciuta e che mi ha entusiasmato facendomi davvero tornare indietro all'amore per le origini non vedo l'ora di andare avanti Chain of Gold la catena d'oro doveva essere in questa classifica e doveva essere così in alto perché ha riacceso in me l'amore per Shadowhunters ultimi due libri tutti sapete quali sono se mi seguite l'ho detto già non so quante volte che questi due libri sono i miei libri preferiti del 2020 ma in generale due libri che sono proprio tra i miei libri preferiti ormai della mia interesistenza il secondo posto è per lui La vita invisibile di Eddie Larue in questa edizione italiana spettacolare una delle quattro edizioni che ho di Eddie Larue c'è anche un reading vlog in cui abbiamo parlato questo libro mi ha trasmesso tanto mi ha parlato e mi sono rivista tanto in tutti i suoi personaggi in particolar modo in Henry ma anche in Eddie e anche un po' nell'oscurità quindi è un libro che tratta tantissime tematiche importantissime per quel che mi riguarda è un libro che mi ha fatto amare ancora di più la Schwab il suo modo di scrivere e semplicemente mi ha parlato mi ha parlato nel momento giusto mi ha fatto innamorare di questa storia dell'arte delle idee della ragazza protagonista che continua ad avere speranza nonostante tutto è un libro che dona speranza e positività per quel che mi riguarda e ti fa amare la vita tramite gli occhi di Eddie in un periodo sempre difficile perché anche questo libro l'ho letto negli ultimi mesi del 2020 ho potuto apprezzare meglio la vita anch'io in generale quindi Eddie Larue mi ha donato tanto e doveva essere presente quindi è al secondo posto dei libri più belli del 2020 ma è proprio ormai un libro del cuore prima posizione non può che essere lui lo sapete è lui il libro più bello del 2020 ma in realtà tutta la trilogia per me è spettacolare perché non riesco a scegliere il mio libro preferito fra i tre primo posto va a l'orso e l'usignolo l'intera trilogia della notte dell'inverno l'orso e l'usignolo la ragazza nella torre l'inverno della stega per me è perfetta non cambierei una virgola per me Katrin Arden ha scritto tre gioielli ricolmi di fiocchi di neve che ti sanno donare una storia fatta di folclore mitologia storia ambientata nella Russia medievale con personaggi spettacolari con una protagonista unica e con un spirito dell'inverno e della morte che ti accompagna ti prende per mano e ti accompagna in questa trilogia bellissima con delle dinamiche spettacolari con dei colpi di scena unici è perfetta io davvero per l'orso e l'usignolo non cambierei niente ci sono due video dedicati a questa storia sul canale ve ne ho parlato e straparlato resta uno dei miei libri preferiti ho già tre edizioni di questa serie sono ormai in fissa e sono completamente innamorata dell'orso e l'usignolo quindi il primo posto non poteva che essere per il mio amato orso e l'usignolo per Basia per Morosco e per tutti gli altri tutti loro persino per l'orso e per Constantine per tutti loro io li amo tutti ebbene quindi questa è la mia classifica dei dieci libri più belli dell'anno più i cinque seguiti più gli altri libri che vi ho citato siamo giunti alla fine fatemi sapere cosa ne pensate sono curiosissima di sapere innanzitutto qual è stato il seguito più bello che avete letto quest'anno il libro più bello magari fatemi una top 3 dei libri più belli del 2020 per voi spero che questo video vi sia piaciuto vi sia stato utile vi abbia tenuto compagnia vi abbia dato positive vibes in qualche modo vi ringrazio veramente tanto per ogni commento like condivisione e iscrizione e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao